il napoli torna a vincere al maradona prima giornata di ritorno napoli 2 salenitana 1 vittoria di rimonta non succedeva da tanto tempo vittoria non sofferta di più soffertissima napoli si prende i tre punti tre punti importantissimi gol di racmani al novantasesimo in pieno recupero salenitana che era andata in vantaggio con un grandissimo gol di candreva profiziato anche da un napoli messo malissimo azzurri che pareggiano di rigore con politano e nella ripresa in pieno recupero il destro e mischia di amir racmani a festeggiare sotto la curva di napoli riparte riparte con un 2 a 1 domani parte parte per l'arabia di una riata supercoppa italiana giovedì alle 20 italiane napoli fiorentina semestinale d'andata chi vince affronterà la vincente